Salve a tutti, sono Weterviews, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare 3Dropper, 1.4 by Bigger. Unico obiettivo, sopravvivere alla caduta, unica regola, non spaccare i blocchi. E non spaccare le balle. Ah, che palle. Sì, va bene, importante, fatto. Ancora più importante. Resto in open LAN, nello citrono, start LAN world, va bene. Siamo in call. Allora, set spawn save, set day, set night. Fatto. Lo citato come spawn. Usa il letto per salvare. You must save. Ok. Mi metto qua. Ah. Bene, sei per lungo. Merda. Oh, cazzo. No, sono a posto. Perfetto. Perché c'è un mondiale? Hai dormito te? Sì. Ok. Perché è ancora noto? Merda. Ehm. Rimettiamoci. Letto occupato. Ok. Mi sa che dovrò spostare il letto. Oddio! Che c'è? Stai dormendo, per spiego. Ok. Ah, che tu. Ok. Ok. Ok, posto. Allora, stai davanti al bottone, stai sul blocco d'oro e prendi il bottone. Andiamo? Ok. Quale bottone devo prendere io? Ma che figata! Siccadelico! Acqua, 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 acqua! No! Ti schiattato anche a te? Sì. Ma fa' il culo, adesso viene anche il maiale. No! È una sfida personale. Cazzo, non si carica, non si carica, non si carica, non si carica, non si carica! Sì! E do anche un diamante. Bene. Adesso. Perché non si carica? Aspetta, punto sui te! Eh, io non ero in acqua. Va bene. Ok. Ma perché ci metti sempre un quarto d'ora che hai calcate? Guardami, 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 guardami! Sì! Bene. E adesso? Bene. Passiamo qui ai prossimi 5 minuti. Ok, allora... Vabbè, ce l'ho impiegato un mese solo per fare con la spirale. Sì, infatti, multiplayer, di qua. Aspetta, tp. Ah, c'è il tp, che figata. Quindi? Di qua, noi. Questo ascensore è veloce. Ah, sì, lo so come funziona. Ah, è quello... sì. In caso di Fire, usate l'Ender. In che senso, in caso di fuoco. Sono inchiastrato! Spiegato. Ma quel culo? Dove scende il giusto? Eeeh... Aspetta. Sto scendo l'ascensore di merda. Sto scendendo per te. Quanto cazzo è alto? Poi se è alto. Sei ancora inchiastrato? Eeeh... Eeeh... Ah, atti addio. Comunque mi sa che dovrei stare in centro. Comunque prendo le scale. Mi sa che è molto meglio. Eeeh... Allora, saliamo le scale. Tu quale stai prendendo? Eeeh... L'ascensore da Carraddy. Dove sei? No. Mi sa che quello più veloce è una... Cazzo quanto è alto. Con Carraddy. E dove sei? Per strada. Sei in alto? Wuhu! Ti vedo! Avvivo! Ui! Che figata! Oh, porca! Iiii! Coglionata. Va bene. Ho avuto paura. Maggi. Io ho cambiato ascensore. Quale sei andato? Ah, sono saltato sull'altro. Quello... Quello pistone? A scalini? No, ho già avuto una brutta esperienza. Quanto cazzo è alto? Mamma mia! Ho rischiato di schiattare. Sei in cima? Io toco! Io toco! Appena sorpassato. Sì, no, io basta, ma mi... Non rischio di nuovo la morte. È tanto alto. Cazzo. Posso essere? C'è perso due giorni solo per fare sta roba. Madonna, sì. Sì. Ah, fatica! 10 minuti dopo. Ta-da-ta-na! Ta-da-ta-da! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Sta arrivando, eh? Bene. Ehm... Checkpoint. ok vieni qua a settare checkpoint checkpoint vabbè abbiamo già settato lo spawn torniamo sempre qua ah è la stessa stanza di prima intanto vado che andiamo di qua metti giù il diamante per sicurezza cosa? metti il diamante nella cesta per sicurezza vieni diamante oh partiamo allora abbiamo sta via e quella da l'arancione quale prendiamo? ehm si questa l'arancione mi spiro ah ecco il nostro spawn aspetta ah mi sa che il diamante lo dovevi mettere qua che fanno? vuoi tu e prenderlo ti ammazzo così e sei subito la tappa fammi fuori puttana picchia mi il culo effetto eh c'era una cosa? kkkkkkkkkkkkkkkkkkndkkkkk e ora ti picherò con il mio letto con calma con calma bene adesso livello 2 caduta vai prima te e dimmi come eh si vengo con te 3 2 1 boh 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 cazzo